Siamo qui con Amir Kudari, Head of Sales di Kairos SGR. Dottor Kudari, quali sono qui al Salone del Risparmio i temi, gli appuntamenti che avete organizzato? Sì, allora faremo una conferenza proprio oggi pomeriggio con il nostro responsabile degli investimenti, Guido Maria Brera. Non parleremo di prodotti perché quello che ci stanno chiedendo i clienti oggi è, come la vediamo, siamo tendenzialmente una voce fuori dal coro, siamo una boutique gestionale del risparmio, abbiamo come DNA l'essere alternativi nelle soluzioni di investimento e anche nella visione del mercato e saranno i temi che affronteremo in maniera molto dettagliata, ci sarà grande interazione anche con i partecipanti, intervisterò, quindi ruberò un po' il suo mestiere, farò io un po' da giornalista con Guido Maria Brera, la nostra responsabile degli investimenti. Qualche anticipazione, visto che i mercati si muovono in uno scenario che ha bisogno di un po' meno facile da interpretare forse rispetto all'anno scorso e ai mesi scorsi, più o meno qual è lo scenario che oggi secondo lei si trovano di fronte gli investitori? Allora, uno scenario complesso, non a caso non faremo come dicevo prima spot di prodotto perché quello che ci stanno chiedendo i nostri partner, i nostri clienti è che cosa ragionevolmente aspettarsi da questi mercati. Normalizzazione dei tassi, banche centrali che stanno gradualmente uscendo, il ritorno della volatilità, soprattutto quest'ultima crea un po' di mal di pancia, la difficoltà oggi nell'asset allocation è trovare il parcheggio, tra virgolette sicuro, noi siamo gestori alternativo quindi faremo un focus specifico sul mondo degli alternative che secondo noi è un tassellino da considerare seriamente nei portafogli dei clienti italiani che tendenzialmente non sono molto esposti all'alternativo, l'alternativo può essere l'alternativo al bond, può essere l'alternativo all'equity, ci sono tante declinazioni di alternativo, ovviamente noi parleremo delle nostre soluzioni, però il contesto sta diventando un po' più complicato, onestamente però lo vediamo come sfida e come anche grande opportunità perché quando le cose si fanno difficili, chi è bravo ad essere flessibile, a gestire in maniera veramente attiva i portafogli può dare risultato e valore aggiunto ai clienti. Grazie dottor Cudari per essere stato con noi. Grazie a voi.